Fabio Cadere è il presidente del comitato per la salvezza dell'ospedale di Giulianova, intercomunale, perché coinvolta anche altri comuni. Questa mattina, qui davanti all'ospedale di Giulianova, sarebbe dovuto partire il primo presidio, il primo banchetto, chiamiamolo così, per sensibilizzare gli utenti quando frequentano l'ospedale. Perché invece il banchetto non c'è? Il banchetto non è presente perché noi ci siamo mossi con i dovuti tempi, abbiamo richiesto le dovute autorizzazioni, quindi una comunicazione al comune di Giulianova e una comunicazione presso la questura di Teramo. La comunicazione data alla questura di Teramo ha avuto subito risposte e siamo stati autorizzati, mentre il dirigente di competenza, l'ingegnere di competenza, non ci ha rilasciato l'autorizzazione perché manca una planimetria che doveva essere vista assieme a lui, però dopo averci convocato nel suo ufficio, siamo andati nell'ufficio e lui non era presente purtroppo. Quindi adesso siete qua ma senza fare niente perché abbiamo visto questi fogli, non puoi fare nemmeno volantinaggio, è chiaro che poi non era questa la richiesta. Noi abbiamo fatto delle richieste per un banchetto permanente, un presidio permanente, perché il senso era avere un presidio permanente. Se avessimo dovuto fare un volantinaggio itinerante avremmo risparmiato di fare la trafila burocratica prevista, quindi andare dai vigili urbani e andare al comune di Giulianova. Avremmo fatto semplicemente l'autorizzazione di pubblica sicurezza presso la questura. Adesso qua come pensate di muovere, come pensate di risolvere? Guardi, risolvere la questione peraltro di un parcheggio dove noi eravamo stati autorizzati ad essere che è completamente occupato, non lo dobbiamo risolvere noi ma penso che la debba risolvere il dirigente di competenza con i vigili urbani che dovrebbero mettere la segnaletica 48 ore prima. Quando è il prossimo appuntamento? Dove lo fate dopo questo? Dopo questo è sempre qui perché era un presidio permanente. Tutti i giorni sarebbe? Tutti i giorni qui, dopodiché ci sarà l'8 e il 9 presso Giulianova Paese dove ci saranno degli eventi. Ringraziamo l'associazione Oltre l'Attimo che ci dà la disponibilità di essere presenti lì con un banchetto e di fare un breve intervento e di spiegare le motivazioni per le quali ci siamo riuniti in comitato. Grazie.